Siamo con Michele Schiappa, presidente del Lido il Pirata Calcio a Cinque, che ritroviamo decisamente sorridente dopo l'estate e anche la primavera piena di trionfi che hanno fatto così assurgere Lido il Pirata al ruolo di grande protagonista nel Sud Pontino e anche quest'anno mi par di capire Michele che non volete recitare il ruolo di comparsa in C2, giusto? Buonasera a tutti, sì, come l'anno scorso abbiamo cercato di impostare una squadra per fare il campionato ad un certo livello e sperando di riuscire perché poi può succedere sempre di tutto, lo sappiamo in questo sport, però diciamo che agli albori di questo campionato sembra che va tutto bene, sta andando tutto bene, speriamo di proseguire così Ti chiedo subito qual è stata la trattativa di mercato di quest'estate che ti ha dato maggiori soddisfazioni, tanto ormai possiamo dirlo, credo che il mercato sia chiuso, diciamo prima già con il mister Stravato, gli annunci imminenti tra pochi giorni ma le trattative sono chiuse dunque qual è stata la trattativa che ti ha dato più soddisfazione? Guarda ce ne sono state tante però come ha detto il mister non mi sbilancio nemmeno io, ormai ho imparato a fare le cose per bene Quest'anno sei più scafato Aspettiamo un attimo per chiudere prima tutte le trattative che sono state fatte e poi ne parleremo comunque fra poco perché ci siamo, aspettiamo un attimino Certo certo, non voglio forzarti nel fare nomi, sei stato chiarissimo, per quanto riguarda gli obiettivi mi hai un po' anticipato, pensate di aver allestito una squadra importante, ti chiedo quello che si dice, chi parla di playoff, vittoria del campionato e quindi sarebbe un doppio salto in due anni Quali sono le cose che invece voi, internos, vi siete prefissati per questa stagione? Guarda, di fare un campionato al meglio delle nostre possibilità, poi a prescinde che viene arrivare a playoff, giocarceli, non lo so, però sicuramente di fare il meglio che possiamo fare Secondo te, per quello che hai visto l'anno scorso, so che hai guardato delle partite anche di Serie C2, che campionato ti aspetti, quali difficoltà ti aspetti e dove secondo te la tua squadra può avere quel quid in più rispetto alle altre? Guarda, non so nemmeno se sia lo stesso campionato dell'anno scorso, però comunque è un campionato sicuramente abbastanza impegnativo, in cui ci saranno la metà delle squadre belle navigate, il restante che ha un livello inferiore e ci saranno quelle solite 3-4 squadre che cercheranno di lottare per vincerlo Noi non so dove ci collocheremo, però credo di, cioè con questo roster, credo comunque di ambire a cercare di lottare le partite con tutti e poi ti ripeto, dobbiamo vedere strada facendo cosa riusciamo a fare, speriamo bene Dopo un anno, chiudo così, non ti chiedo altre domande di campo, però insomma, dopo un anno che siete, tu eri già nel calcio a 5, però in questa veste di presidente insieme agli altri tuoi due compari della triade che ascolteremo tra poco, Parisi e Catalano un primo bilancio di questa esperienza nel calcio a 5, che vi vede comunque molto uniti, perché siete tre figure che insomma si vedono sempre insieme, decidono tutto insieme, quindi dopo un anno cosa ti senti di dire di questa esperienza? Guarda, li ringrazio perché ognuno di noi ha portato il suo apporto e l'ha fatto nel migliore dei modi a partire dal socio Alessandro Parisi che sta facendo l'impensabile, tutto fatto benissimo e anche il vicepresidente, ognuno di noi ci siamo impartiti dei ruoli e stiamo portando avanti questa cosa credo molto bene e continueremo sicuramente così, pure perché siamo un gruppo, siamo tantissimo amici e quindi dobbiamo continuare per forza così, fare tutto nel migliore dei modi Va benissimo, grazie mille Michele e naturalmente ci sarà modo di risentirci nel proseguo della stagione Grazie, buonasera E ritroviamo anche Alessandro Parisi dopo l'estate e dopo i successi del Lido il Pirata Calcio a 5 che ricordiamolo, non l'abbiamo fatto ancora fino adesso, oltre alla Coppa Provincia di Latina in estate si è giudicato anche uno dei più importanti tornei del Sud Pontino che è il Fondi Sam & Sport dunque un 2018 nel segno della benda, nel segno del Pirata, Alessandro Noi il torneo in piazza è stato un divertimento più che altro siccome noi siamo grossi appassionati di calcio a 5 ci direttiamo anche nei tornei estivi però ecco la cosa più importante è stata raggiungere l'obiettivo che ci avevamo prefissati man mano che andavamo avanti durante la stagione ci siamo resi conto che questa società, questa squadra poteva ambire a risultati importanti e piano piano ci abbiamo creduto e strada facendo i risultati più il morale, più le prestazioni ci hanno dato ragione come dicevo già prima con Michele è stato il primo anno per voi ma in particolare per te che venivi da una lunghissima militanza nel calcio a 11 ma ti sei cimentato con coraggio però allo stesso tempo con grande entusiasmo, grande ardore nell'avventura nuovissima del calcio a 5 come giudichi questo primo anno al di là dei successi che naturalmente sono sempre molto importanti per dare poi un'opinione generale al tutto però ecco nel complesso che idea ti sei fatto di questo calcio a 5? è stata un'esperienza nuova per me che mi ha arricchito tantissimo perché comunque io come detto tu vengo dal calcio è stata un'esperienza positiva, molto positiva e la cosa più importante è stata che comunque io insieme a Tony e Michele ci abbiamo messo tutta la nostra serietà la nostra professionalità io come ho sempre ragionato nella vita, nel lavoro e anche nel calcio ho cercato di portare la mia mentalità fatta sempre di cercare in tutti i modi di vincere perché alla fine nel calcio sì è bello divertirsi, partecipare però la cosa più bella è sempre quella di vincere penso che su questo siamo d'accordo un po' tutti e la cosa più importante ci tengo particolarmente a sottolinearlo è che se state moltissimi giocatori, moltissime persone ci hanno chiamato ci hanno contattato per venire a far parte di questa società e questo significa che noi abbiamo lavorato bene perché poi se sono queste le voci che girano noi può soltanto farci piacere e riempirci d'orgoglio ecco, questo è stato, dopo il fatto di aver creato un gruppo importante la cosa che ci ha riempito più di orgoglio e di soddisfazione Hai fatto una panoramica chiarissima e ti ringrazio per questo perché ci hai dato proprio un'idea del tutto non ho fatto ancora questa domanda agli altri quindi la faccio a te che sei il socio fondatore come diceva giustamente il presidente Schiappe e quindi sei un po' il deus ex machina di questa società seppur apparentemente nell'ombra quali sono anche, ti chiedo, i piani futuri di questa società al di là della prima squadra se c'è, non lo so, l'intenzione di creare una piccola scuola calcio a 5 piuttosto che un settore giovanile verso quale direzione nel futuro va il Lido e il Pirata Calcio a 5 campionato di quest'anno di Serie C2 a parte? Nel nostro programma, che sicuramente non è un programma a due anni ma bensì duraturo e lungo noi abbiamo soprattutto, come hai detto tu, il settore giovanile sicuramente non quest'anno perché comunque siamo al secondo anno di nascita quindi dobbiamo ancora crescere e migliorare parecchio sotto tanti punti di vista però sicuramente creare un settore e arricchire la nostra società di persone competenti e capaci è un nostro obiettivo imminente poi per quanto riguarda la stagione che andiamo ad affrontare noi abbiamo attrezzato una squadra di buon livello però come è l'anno scorso che non ci siamo posti obiettivi di vincere il campionato la stessa cosa sarà quest'anno noi vogliamo fare bene e soprattutto vogliamo cercare di crescere e migliorare come società che è la cosa più importante Scusami, mi allaccio a questo discorso perché l'anno scorso mi ricordo che nella prima intervista di questo periodo parlavi di un leader pirata possibilmente nei primi cinque posti quest'anno qual è il tuo augurio più che la tua previsione? I primi cinque posti come l'anno scorso Confermiamo i primi posti, così porta bene Confermiamo alla grande anche perché il camionato del C2 è un campionato di un certo livello e quindi noi siamo anche curiosi di poterci cimentare in questa nuova avventura Va bene, allora Alessandro grazie mille in bocca al lupo sicuramente avremo modo di chiacchierare con molto piacere durante la stagione Grazie a voi Crepia Siamo con Tony Catalano colui che rappresenta la parte un po' più calda, un po' più sanguigna della dirigenza del leader pirata calcio a cinque uno che non è mai di parole banali uno che non si tira mai indietro siamo sicuri che sarà così anche questa volta Tony, cosa ti aspetti da questa nuova stagione per il leader pirata calcio a cinque? Buonasera innanzitutto hai ragione, vabbè io mi faccio un po' trasportare un po' dal mio spirito sportivo il ligame anche a questa società questa avventura che è iniziata l'anno scorso è iniziata un po' tanto così forse proprio per gioco però ci siamo ritrovati comunque ad avere una bella squadra un bel affiatamento sia da parte nostra società che da parte dei giocatori quindi abbiamo trovato poi veramente come dire lo spunto per fare un grande campionato e poi ci ha trascinato fino al nostro esatto fino al nostro triunfo devo dire eccezionale per noi di Mondo Futsal che vi abbiamo seguito per tutta la passata stagione anche è stato bellissimo vedere come molte volte tu durante le partite soprattutto Casalinghe ti lasciavi trasportare veramente dagli eventi della partita come davvero il Galliani dei bei tempi a San Siro quindi anche dal punto di vista del colore era bello vederti così soffrire ovviamente in senso buono per la tua squadra e se per Parisi era difficile perché veniva dal calcio a undici per te che venivi addirittura da uno sport completamente diverso quale è la palla a mano poteva essere ancora più complicato invece poi il Futsal credo di poter dire dodici mesi dopo ti ha conquistato assolutamente ma devo dire che alla fine qualsiasi sport sia se c'è un legame di cuore ci metti comunque tutto quello che hai cioè l'entusiasmo l'amore tutto il resto anche per lo sport stesso come ti fai trascinare indipendentemente da tutto poi comunque ti trovi comunque a far gruppo anche con la squadra che gioca in campo e quindi anche se sei sugli spalti ti fai trascinare se diventi anche tu parte della squadra e diventi il tifoso principale della propria squadra e noi siamo fatti così poi alla fine ci facciamo trasportare è la cosa più bella devo dire che poi i nostri ragazzi ci hanno dato una grande soddisfazione sia in campionato e non solo poi abbiamo fatto anche dei tornei anche importanti sono risultati sempre positivi e niente dobbiamo solo in questo momento goderci il momento dai assolutamente sì senti di solito tu non sei abbottonato come coloro che ti hanno preceduto no pari si schiappa giustamente l'allenatore stravato quindi non posso non chiederti di essere sincero alla prossima domanda che è questa qual è il vero obiettivo quest'anno del Lido il pilota calcio a 5 vabbè io devo dire l'anno scorso mi ricordo benissimo che le mie parole erano quello che ero molto fiducioso in un bel campionato nonostante che era la prima volta che ci legavamo a questo questo sport e molti giocatori venivano anche dal calcio a 11 era difficile però quest'anno vabbè io rimango con i piedi per terra una novità e mi leggo comunque anche ecco seguo le orme dei miei soci però sono sempre più fiducioso di Lodo perché alla fine conosco anche alcuni giocatori che in questo momento non posso far nome della squadra e penso spero di fare un bel campionato anche quest'anno poi ovviamente sono fiducioso sia anche a parte dei giocatori del nuovo team che sta facendo parte adesso di questa società a parte i confermati Pannozzo e Nino Pannozzo sia Giuseppe Pannozzo che Nino Pannozzo e i nuovi mister e quindi penso che veramente ci stanno le basi per fare un ottimo campionato in Cerenza del C2 bene insomma quest'anno hanno messo la museruola anche a Tony Catalano il politicamente corretto ha colpito anche Tony vabbè dai magari durante la stagione ti ritroveremo un po' più sciolto come le tue abitudini assolutamente mi rifarò mi rifarò grazie mille Tony grazie a voi buona serata siamo con Nino Pannozzo giocatore e da quest'anno anche preparatore atletico del Lidl Pirata Calcio 5 Nino dunque per te nuovi stimoli una nuova veste doppia veste come ti districherai in questo tuo nuovo doppio impegno? innanzitutto buonasera sicuramente sarà molto più impegnativo rispetto all'anno scorso per me adesso è la prima esperienza da preparatore ho fatto scienze motore ora sto facendo la magistrale e nel frattempo inizio anche questa esperienza lavorativa cercherò di coniugare tutte e due le cose sicuramente non è facile però ci proviamo sicuramente è un'esperienza che mi aiuterà molto è l'inizio quindi sicuramente ho bisogno di tempo qualche errore ci può stare però comunque non vedo l'ora di iniziare sono contento di continuare a far parte di questa società ecco l'anno scorso una bella annata per te è stata la prima nel Calcio 5 dopo tanti anni di Calcio 11 però subito la bella soddisfazione del secondo posto quindi grande piazzamento in Serie D ma soprattutto della vittoria nella Coppa Provincia Latina a tutti gli effetti i playoff di Seredi che vi hanno visto trionfare in quel di Terracina cosa ti porti più dietro all'inizio di questa nuova stagione della vecchia mi porto dietro sicuramente l'aspetto anche tattico come magari il modo di giocare i movimenti tipici del calcio a 5 che naturalmente anche nell'ambito quindi della preparazione cerco di coniugare i movimenti del calcio a 5 con l'aspetto fisico quindi cerco sicuramente da un punto di vista alcune cose ancora faccio difficoltà ho avuto difficoltà sicuramente ad ambientarmi però verso la fine è andata meglio quindi parto sicuramente da una base migliore rispetto all'anno scorso ti chiedo questo ti abbiamo visto poco all'andata compri c'è anche qualche guaio fisico se la memoria non mi inganna mentre nel girone di ritorno il tuo minutaggio è cresciuto questo per te è un buon viatico direi anzi un ottimo viatico alla luce di quella che sarà la nuova stagione in Serie C2 sì all'inizio dell'anno scorso non sapevo di non partire magari dall'inizio anche per una questione di esperienza comunque c'erano giocatori che già avevano fatto in passato anche categorie superiori quindi sicuramente ero consapevole di non partire nei primi iniziali però con il tempo mi sono adattato mi sono dato da fare e alla fine ho cercato di dare una mano è andata bene fortunatamente ti faccio un'ultima domanda sia da giocatore che da preparatore tanto comunque fai parte alla grande di questa realtà che è Lido il Pirata Calcio a 5 avete allestito o meglio i tuoi dirigenti hanno allestito un'ottima rosa cosa ti senti di dire o così se puoi almeno nella tua mente fissare un obiettivo per te e i tuoi compagni la squadra è molto buona sicuramente ci sono molti elementi di qualità si può fare un bellissimo lavoro credo da tutti i punti di vista tecnico tattico fisico comunque sono giocatori anche da un punto di vista fisico che possono rendere molto quindi da questo punto di vista può uscire una bella stagione noi cercheremo di fare il massimo dove ci piazzeremo non lo so dire sicuramente cercheremo di andare il più in alto possibile di fare sempre meglio e speriamo magari come l'anno scorso lo speriamo va benissimo grazie Nino grazie a voi siamo con Giuseppe Pannozzo preparatore dei portieri del Lidl Pirata Calcio 5 per te il secondo anno in questa società sei stato confermatissimo dopo l'ottimo lavoro svolto nella passata stagione quali sono i tuoi propositi per questa nuova stagione che ormai sta per iniziare allora buonasera innanzitutto prepariamo al meglio i portieri proviamo a curare nei minimi dettagli ogni gesto ogni situazione di partita e ci prospettiamo un buon lavoro diciamo su ogni punto di vista appunto tu sei un preparatore che ha già molte esperienze in questo sport e ricordiamo che per vari anni hai eseguito anche il calcio a 5 femminile per quanto riguarda dalla Visfondi fino addirittura alla serie A2 quindi puoi vantare un'enorme esperienza in questo sport però hai anche la fortuna di allenare portieri che hanno calcato i campi della serie B come Alessandro Gionta quindi qual è il passaggio di un preparatore dei portieri che passa da una serie A2 femminile a una serie D dove però c'è un portiere che ha calcato palcoscenici più importanti Sì beh è stato veramente diciamo un onore perché comunque allenare Alessandro Gionta passare da un portiere che si allenava quattro volte a settimana una volta a settimana è stato veramente tra virgolette all'inizio anche difficile perché programmare un allenamento e riuscire a racchiudere tutte diciamo le casistiche anche dell'allenamento della partita e non è stato semplice all'inizio però Alessandro è stato molto molto bravo si è proposto benissimo non ha fatto nessun problema nel senso è stato quello che dicevo io e niente passare dalla femminile che è tutto un altro mondo anzi ho cominciato proprio lì con la femminile e ringrazio la società che mi ha dato questa possibilità e niente sono cresciuto man mano ho studiato mi sono aggiornato man mano e poi diciamo ho una mia teoria e niente per adesso puntiamo su gionta e niente sono molto contento di allenare ancora qua ecco ho una curiosità più che una domanda è più difficile pensare a tutte le casistiche come dicevi tu che possono accadere no in un match di 60 minuti oppure creare un rapporto direi privilegiato speciale con i tuoi tra virgolette sottoposti portieri beh le casistiche di una partita di un match non sono molto semplici perché comunque bisogna pensare a 360 gradi da una palla inattiva che si trova in attacco a una preventiva che la squadra indietreggia e tutto il resto il rapporto con i portieri diciamo si evolve man mano con con il passare dei giorni comunque le ti leghi a loro sì c'è sempre un po' di distacco però comunque se il ragazzo il portiere che hai a disposizione è tranquillo è la portata di mano è tutta più semplice diciamo questo in ultimo mi interessa farti una domanda su Massimiliano Fraioli il vostro nuovo secondo portiere poi sulla carta naturalmente sarà il campo poi come al solito a fare le strategie però un portiere esordiente che si approccia per la prima volta in modo importante a questo sport cosa pensi di lui su cosa vorresti lavorare di più con lui anche se puoi dircelo certo beh Massimiliano Fraioli è un grande portiere nel senso se lo prendiamo dal punto di vista del calcio a 11 parliamo di un portiere che ha delle buone caratteristiche sul mondo del calcio a 5 dobbiamo cominciare a lavorare diciamo dalla base quindi cominciare dalle uscite dalla spaccata quindi un nuovo approccio per lui quindi vedere come è capitato nel passato creare un portiere quasi da zero e quindi che forse è la cosa più bella per un preparatore sì sì anche questo perché comunque lo crei a tuo veramente a piacimento quindi alla tua immagine somiglia esatto questo sì e niente spero che si diverta e che continui ad allenarsi con noi niente di più va bene grazie mille Giuseppe in bocca al lupo grazie grazie grazie